L'affiancamento dell'esercito alle forze di polizia e dei carabinieri con funzioni di ordine pubblico continuerà ad essere garantito nella città di Catania. Lo ha dichiarato il ministro della difesa Ignazio Larussa durante la visita nel capologo Etneo che si è svolta venerdì 28 maggio. Vi do un annuncio, piccolo, piccolissimo annuncio. Ho la certezza, incontata dal ministro dell'economia, che verrà rifinanziato anche tra l'anno che arriva l'operazione Strade Sicure, il che significa che continueranno ad esserci anche a Catania, come ha voluto il sindaco, come ha voluto questa giunta, un apporto di militari al sostegno della polizia e dei carabinieri per dare un plus di sicurezza. Naturalmente non è niente di decisivo, ma è un'altra conferma dell'impegno che hanno non solo il sindaco, non solo la giunta, non solo io e i gasparri, ma tutto il governo a sostegno della Sicilia e in particolare del rilancio di Catania. Grazie.